Sansepolcro ospita a Palazzo delle Laudi un incontro importante dedicato alle donne, pari o dispari il titolo di questa iniziativa della provincia di Arezzo dedicata appunto al confronto tra i problemi delle donne nel territorio. L'obiettivo che la Commissione si è proposta subito dopo la sua costituzione nel giugno scorso è stato quello di conoscere direttamente i problemi che le donne di tutti i territori che compongono la provincia di Arezzo affrontano nella vita quotidiana. Alla fine degli incontri ci proponiamo di focalizzare l'azione della Commissione su uno o due dei problemi che siano emersi in maniera più visibile e consistente al seguito dei confronti che ci saranno nelle vallate. C'è bisogno ancora oggi più che mai di parlare di pari opportunità, c'è bisogno di parlare dei problemi delle donne soprattutto in questo momento di crisi in cui le donne sono più penalizzate, sono più penalizzate relativamente a quello che è l'ambiente lavorativo, all'esclusione dal mondo del lavoro e quindi tutto questo poi porta a delle conseguenze anche nell'ambito diciamo più familiare, più strettamente privato. Siamo contenti di ospitare questa importante iniziativa e come Comune noi abbiamo proprio un assessorato alle pari opportunità che svolgiamo diciamo così in modo trasversale, perlomeno questo è il modo come l'ho sempre inteso, cioè non tanto una problematica ad hoc quanto attraverso una politica di sviluppo dei servizi sociali, asilo nido, altri servizi scolastici o anche in altri settori, di favorire proprio il mondo femminile in tutti i suoi aspetti.